Benvenuti o bentornati su Fanta Polen e benvenuti in questo video di calciomercato dedicato a Lecce e a quello che è il suo primo colpo in entrata della sessione estiva che aprirà tra una settimana, ovvero sia Pontus Almqvist. In questo video vi vado a dire chi è Almqvist, quali sono le sue caratteristiche tecniche, qual è il ruolo che predilige, qual è la formula con cui il giocatore si trasferisce a Lecce, e che contributo può dare alla stagione del Lecce del prossimo anno e come può ambientarsi nel nostro campionato, ma anche la futuribilità o l'eventuale futuribilità di questo colpo messo a segno da Corvino. Andrò a chiudere il video con un voto sintetico dell'operazione tenendo di conto di tutto quello che andrò a dire nel video e con qualche consiglio per gli amanti del fantacalcio. Allora cominciamo con la formula, il giocatore arriva dal Rostov, che è una squadra russa, in prestito secco, quindi è un'operazione in prestito, al termine della stagione il giocatore farà ritorno al Rostov, ciò ovviamente non esclude la possibilità di poter eventualmente al termine della stagione, qualora il giocatore avesse fatto un bel campionato, non esclude la possibilità di poter trattare con il Rostov un suo ritorno magari anche a titolo definitivo, però al momento è un'operazione a titolo temporaneo, prestito secco, senza diritti di riscatto, di controriscatto, non c'è niente di tutto questo, quindi è un'operazione di questo tipo. La carriera di Anquivist è abbastanza travagliata, nel senso che è un giocatore che per caratteristiche sembrava potesse esplodere giovane, cresciuto in Svezia, ovviamente è svedese il ragazzo, però praticamente non è mai rimasto un anno nella stessa squadra, è sempre stato girato in prestito o trasferito a titolo temporaneo perché non ha mai convinto praticamente da nessuna parte. Ha attirato l'interesse del Rostov dopo tutta una serie di prestiti e controprestiti in patria, nel 2020 quando il Rostov ha versato, nelle casse del Nordkoping che lo ha cresciuto dalle giovanili, 3.750.000 euro, quindi il giocatore ha convinto il Rostov, che però poi non ha mai realmente puntato su di lui, ha fatto un prestito all'Utrecht, poi è tornato a Rostov, è rimasto un'annetta a Rostov, poi si è trasferito in prestito in Polonia, insomma è un giocatore errante, è un giocatore che è un po' un incompiuto, per l'amor del cielo si sta parlando di un ragazzo del 99, quindi ha ancora margini per potersi affermare, però il fatto che si trasferisca in Italia dopo aver tentato la fortuna, in Russia, poi in Olanda, poi in Polonia, dopo averla cercata in patria in Svezia, cioè un giocatore che sta cercando probabilmente l'ambiente giusto per poter valorizzare quelle che sono le sue caratteristiche, e che arriva a Lecce ovviamente come una scommessa, non si sta assolutamente parlando di un giocatore da rendimento sicuro, perché è un giocatore assai discontinuo. Quali sono le sue caratteristiche? Allora è un giocatore, è un attaccante di poco più di un metro e ottanta, quindi fisicamente non altissimo, ma soprattutto abbastanza leggerino, quindi è un giocatore che principalmente si fa riconoscere per la rapidità, per la velocità negli spazi, per l'attacco della profondità, è un giocatore bravo nel campo aperto, sul campo aperto è un giocatore che può essere devastante, però fisicamente, considerando qual è il tasso fisico medio del nostro campionato, potrebbe soffrire molto la fisicità del nostro campionato, perché è un giocatore molto leggerino, è un attaccante, cosa intendo? È un centro avanti? No. È un giocatore che in carriera ha giocato un po' in tutti i ruoli dell'attacco, esterno destro, esterno sinistro, centro avanti e sottopunta. L'ha praticamente giocati tutti, anche se, secondo me, il ruolo dove rende di più è quello dell'esterno sinistro. È mancino di piede, però ha anche un buon destro e questo lo rende imprevedibile, magari, nei tentativi di dribbling, perché non va sempre dalla stessa parte. E quindi, secondo me, la sua posizione ideale, nell'ipotetico 4-3-3, che potrà fare il Lecce il prossimo anno, perché il Lecce si è separato da Baroni e sta cercando il nuovo allenatore, quindi anche il fatto che la società abbia messo a segno a dirigenza, abbia messo a segno un colpo di mercato senza sapere, forse, quale sarà il prossimo allenatore. Magari, in realtà, la società, la dirigenza lo sanno, però ancora non è stato reso ufficiale. Però è particolare, è abbastanza peculiare questa cosa. Ipotizzando che il Lecce continui, diciamo, sulla scia del 4-3-3, che si è visto l'anno scorso con Baroni, io Almqvist lo vedo come esterno-sinistro, che è un ruolo dove si sono, diciamo, ruotati di Francesco, Bandà, addirittura a inizio anno ogni tanto ci ha giocato anche Odenne da quella parte, però nessuno ha mai poi sfornato prestazioni convincenti da quella parte, o comunque prestazioni continuativamente convincenti. Magari qualche sprazzo interessante lo hanno fatto vedere, sia di Francesco che Bandà. Odenne, no, Odenne ha iniziato a far vedere sprazi interessanti quando è stato spostato a centro campo. Però, diciamo, in quella zona di campo rispetto all'altra, dove Strefez ha fatto la voce grossa, sicuramente è mancato qualcosa. Io penso che Almqvist arrivi per fare l'esterno-sinistro, perché probabilmente ci sono delle valutazioni da fare in relazione appunto a Di Francesco e a Bandà. Magari ci sono delle offerte per Bandà, che magari è un giocatore che ha attirato l'interesse di qualche società, magari di Francesco anche per una questione di ingaggio, perché uno dei giocatori che percepisce l'ingaggio più alto a Lecce vuole essere, la società magari lo vuole vendere, visto che il rendimento non è stato all'altezza dell'ingaggio percepito. Ci saranno sicuramente delle valutazioni in corso, che ovviamente non conosco, però credo che Almqvist sia arrivato per fare l'esterno-sinistro. Come dicevo prima, è un giocatore che, diciamo, si esalta negli spazi, si esalta nell'attaccare alle spalle degli avversari, nell'attaccare alla profondità. Non è, come dicevo, particolarmente fisico, quindi può soffrire molto la fisicità del nostro campionato, a maggior ragione quando si accentra, e quindi quando si avvicina alle porzioni di campo, dove affronti poi i difensori centrali, che quasi tutte le squadre hanno abbastanza piazzati fisicamente, sono armati, di solito i difensori centrali, sull'esterno puoi trovare qualche giocatore, magari anche buono più leggerino, ma ormai si stanno irrobustendo anche i terzini. Quindi è un giocatore che può soffrire questo. Tecnicamente non è un giocatore clamoroso, ha questa qualità di avere un buon destro, è un mancino di piede, però ha un buon destro, quindi, come dicevo, lo rende imprevedibile nei movimenti, e lo rende pericoloso, magari negli ultimi metri, perché può indifferentemente calciare con il destro e con il sinistro, però non è un giocatore che in carriera ha mai avuto grandi numeri, né dal punto di vista dei gol, né dal punto di vista degli assist, ed è un po' un tasto dolente, quasi misterioso, per un giocatore che comunque ha delle qualità, che in squadre che giocano di contropiede, ad esempio, dovrebbero portare a numeri completamente diversi, a numeri più alti, a numeri più convincenti, e che invece il carriera non ha mai mostrato in nessuna delle esperienze che ha fatto. Arriva da una stagione, l'ultima, dove ha collezionato appena 5 gole e 6 assist, in una trentina di presenze, quindi numeri non esaltanti, però nemmeno da buttare via, se è chiaro, comunque per un giocatore offensivo, così duttile, così dinamico, così, insomma, fluido, nel suo interpretare la zona di campo offensiva, 5 gole e 6 assist, comunque prendere parte a 11 reti, non è comunque un numero disastroso. Però, le difficoltà che ha mostrato il Lecce in questa stagione, cioè quelle proprio dal punto di vista realizzativo, c'è stato quel filotto, il campionato dove il Lecce non segnava, sono state dal punto di vista dei gol. Quindi, secondo me, il Lecce, se doveva andare a prendere giocatori in quella zona di campo, attaccanti, anche perché Colombo è stato contro il riscattato dal Milan, ad esempio, io penso che servisse un giocatore che magari ti dava un pochino più di garanzie dal punto di vista realizzativo. Poi è normale che con le disponibilità economiche che ha il Lecce, non è che si possa andare a prendere giocatori affermati, perché è impossibile, bisogna per forza andare a prendere giocatori o in cerca di rilancio, o mezzo e scommesse, è normale. Però qui si sta parlando di un giocatore che, secondo me, ha un tasso di rischio altissimo, a livello prestazionale, perché poi a livello economico, essendo un prestito secco, non è un giocatore che ti porta a un rischio economico, e questo non si nega. Però a livello tecnico, è un giocatore che ha un tasso di rischio di flop veramente elevato, proprio perché, secondo me, la sua leggerezza fisica e la sua tecnica non altissima lo porta ad essere un giocatore che può avere veramente tante difficoltà ad ambientarsi nel nostro campionato e ad ambientarsi anche in un campionato di sofferenza, a quale sarà chiamato a fare il Lecce la prossima stagione, quasi sicuramente. Per cui è un colpo che non è che mi stuzzichi più di tanto. Poi, quando Corvino va all'estero e muove, diciamo, il suo scouting, spesso ci prende, e quando non ci prende, comunque non dissangua il conto economico della sua società. Questa però mi sembra un pochino più una sparata, proprio perché c'è stata una grande occasione di mercato, perché un prestito secco di un giocatore che aveva delle promesse importanti qualche anno fa è un colpo che ci può stare, però credo che se Lecce vuole rinforzare quel reparto per la prossima stagione, sempre considerando che continui sulla falsa riga del 4-3-3, penso che servano altri profili, perché Anquist non è un giocatore che secondo me ti può fornire numeri elevati dal punto di vista dei gol e degli assist, ma secondo me anche dal punto di vista delle prestazioni può avere veramente tante difficoltà ad ambientarsi nel nostro campionato. Inoltre il fatto che sia arrivato in prestito secco secondo me non tutela minimamente il Lecce, cioè Colombo e Falcone che sono arrivati in prestito con diritto e contro diritto, poi alla fine non è rimasto nessuno di due perché sono stati entrambi controriscattati, e se su Falcone secondo me è un grande peccato, su Colombo secondo me non c'è da strapparsi troppo i capelli, però come ha fatto notare anche Corvino nella sua conferenza stampa relativo a Colombo, ma questo vale anche per Falcone, il Lecce ha guadagnato soldi per questa cosa, cioè ha preso dei giocatori in prestito con un diritto di riscatto, quindi senza un obbligo vincolato, ma con un diritto di riscatto, quindi se i giocatori poi non avessero convinto li rimandavi al mittente, se avessero convinto li potevi riscattare, se avessero convinto tanto probabilmente sarebbero stati controriscattati, ma comunque ci andavi a guadagnare, e quando una società spende poco, perché può spendere poco, andare a guadagnare 1.700.000 euro da Colombo, 1.500.000 euro da Falcone, sono soldi che poi puoi assolutamente reinvestire, per cui il prestito con diritto e contro diritto ha una logica in una realtà calcistica come quella del Lecce, il prestito secco secondo me no, perché se tu vuoi confermare un calciatore alla fine di una stagione passata in prestito secco, presumibilmente questo implica che il giocatore abbia fatto un'ottima stagione, ma se il giocatore ha fatto un'ottima stagione e torna al Rostov in scadenza di contratto, perché il ragazzo ha un contratto che scade nel 2025 con il Rostov, quindi alla fine della prossima stagione, cioè nel 2024, tornerà alla base con un contratto di un anno, quindi un giocatore in scadenza che magari viene da una buona stagione, è normale che attiri l'interesse di squadre economicamente più attrezzate del Lecce, quindi il giocatore non ti tornerà mai, è proprio improbabile, anche perché il Rostov avrà bisogno di monetizzare prima di perderlo a zero, quindi questo prestito secco, secondo me come futuribilità della possibilità che il giocatore possa rimanere a Lecce anche l'anno dopo, qualora giocasse bene, è bassissima, ed è una formula che non tutela minimamente il Lecce, perché non offre, secondo me, come ho detto prima, la possibilità che il giocatore possa rimanere più di un anno, ma non offre nemmeno la possibilità di guadagnarci soldi, cosa che invece un prestito con diritto e contro diritto, che anche in quel caso non ti garantisce la possibilità di trattenere un calgiatore, però ti garantisce la possibilità di guadagnare, ecco, il prestito con diritto e il corto diritto è l'operazione top, perché se il giocatore delude lo mandi via e hai pagato solo lo stipendio, se il giocatore piace, ma non ha offerte clamorose, te lo riscatti, quindi lo paghi dopo averlo provato, se il giocatore convince qualche altra squadra disposta a pagare di più, probabilmente lo perdi, ma ci hai guadagnato comunque soldi e non hai rischiato nulla, queste sono operazioni a rischio zero, il prestito secco non è un'operazione a rischio zero, perché è un'operazione che non ti dà futuribilità e che non ti dà possibilità neanche di guadagno, quindi sono colpi quelli dei prestiti secchi, secondo me che vanno bene per completare la rosa, per prendere la riserva, il giocatore per il turnover, che può anche cambiare tutti gli anni e essere in prestito, tanto, diciamo, chi se ne frega, sono gli altri quelli che devono trascinare la stagione, però ecco, sotto questo punto di vista io avevo preso uno che conosceva il calcio italiano, a questo punto andavo a bussare alla porta di qualche squadra di media alta classifica che hanno molti esuberi, che hanno giocatori magari bisognosi di cercare spazio altrove, o per la giovane età, o perché non riescono a trovare spazio magari nemmeno nelle panchine di queste squadre, e mi portavo uno che magari già il calcio italiano lo conosceva e sicuramente mi avrebbe potuto dare delle garanzie in più, almeno a livello di ambientamento, invece questo è un giocatore, essendo me il rischio di essere un desaparecido come ce ne sono tanti e anche nel Lecce insomma ce ne sono stati di calciatori così, basti pensare a Elgason, basti pensare a Bistrovic, calciatori che hanno fatto poche comparse e poi sono andati nel dimenticatoio, ho paura che Almqvist possa fare questa fine. Quindi al fantacalcio, al fantacalcio io ovviamente il calciatore non lo consiglio, poi se lo volete prendere in un fantacalcio magari numeroso, dove siete in 10, lo volete prendere come sesta riserva, come sesto slot, perché magari prendete anche un altro attaccante di Lecce, però ribadisco, la sua duttilità non vi fa capire bene di chi sarà la riserva, se sarà la riserva di strefezza, se sarà la riserva del centro avanti o se sarà la riserva di esterno alto, a sinistra. Non lo sai, non lo puoi capire, quindi è difficile creare anche una coppia qualora uno si volesse coprire sotto quel punto di vista. Un giocatore che fantacalcistivamente, secondo me, ha poco appeal, perché non ha mai avuto grandi numeri e quando vai a prendere giocatori in attacco al fantacalcio vuoi o gente che gioca e ti copre da eventuali assenze o gente che ti porta bonus, altrimenti non sono operazioni che hanno senso e lui secondo me non offre garanzie né in un senso né nell'altro. Voto all'operazione. Ora, quando c'è Corvino di mezzo è sempre difficile dare voti negativi perché Corvino ne capisce talmente tanto che è difficile essere diffidenti nei suoi confronti, però a me sto colpo convince poco. Quindi do un 5, non do un voto bassissimo perché comunque un prestito secco, un giocatore che non costa soldi, c'è un rischio tecnico, però non economico, quindi questo, vabbè, lo si può passare, però secondo me è un colpo che non ha molto senso, che non ha molte possibilità di portare un benefit concreto alla stagione del Lecce del prossimo anno. Per cui per quanto mi riguarda è un colpo da 5, è un colpo insufficiente e poi ovviamente sono qui e sempre guarderò le partite del Lecce del prossimo anno per vedere di essere smentito. Il mio video si conclude qua, vi invito a iscrivervi al canale se non lo siete per supportarmi, se volete nuovi video anche sul Lecce o qualsiasi altra cosa scrivete pure nei commenti, io leggo e rispondo sempre a tutti. Anche se volete chiedermi dei video specifici su qualsiasi cosa potete anche scrivermi in privato su Instagram o su Telegram e vi lascio in descrizione i link ai miei due profili. Appunto, commentate con quello che è il vostro pensiero su questo colpo se invece a voi intriga se insomma anche e soprattutto se non siete d'accordo il confronto è costruttivo noi ci vediamo ai prossimi video. Un caro saluto a tutti. Ciao!